Volete entrare a gamba tesa nel nuovo meta del TCG di One Piece? Desiderate un leader stabile che metta a ferro e fuoco interi contingenti di corsari? Quale sarà il protagonista di quest'oggi che potrà rispondere a tali esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente il quinto capitolo del TCG di One Piece è arrivato e con essi nuovi leader hanno fatto la loro comparsa stravolgendo ancora una volta il meta attuale che mai è stato così vario e completo. Tra i diversi protagonisti della nuova era uno mi ha incuriosito maggiormente ovvero la versione bicolore di Sakazuki che grazie ai suoi due effetti permetterà ad ogni aspirante re dei pirati che lo utilizzerà di creare non pochi problemi alle difese rivali che si vedranno inondare turno dopo turno da un vulcano in piena eruzione pronto a spazzare via qualsiasi cosa grazie alle sue colate piroclastiche. Nella profile di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendone le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del grande ammiraglio più spietato e temuto della marina militare. Prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Sakazuki blu nero, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto vi consentirà nella vostra fase principale una volta per turno di scartare una carta dalla mano per pescarne di seguito un'altra dalla cima del deck. In più in fase di attacco potrete diminuire di una singola unità il costo di un character avversario presente in campo. La decklist in questione rappresenterà una fiera del riciclo atto a demolire qualsivoglia presenza avversaria in gioco e vedrà il quartetto di Zuru, Rebecca, Braniut, Sigi, Hina e Luci, il trist di Kuzan e Borsalino Blocker, la coppia di Mon Cherie, Sabo e Borsa Costo 7 e la singola presenza di Bartolomeo e Kobe per la parte character. Per gli event invece ci saranno il quartetto di Greater Option e Hound Blades con le doppie coppie di Ice Age e 3000 World che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro Luci, Mancherie e Rebecca, il primo per la sua abilità nel distruggere e le altre per il fattore recupero di character dalla pila degli scarti. Mentre il resto servirà ad innescare le abilità di distruzione provenienti dallo stesso Luci e dalla monocopia di Kobe che bersaglieranno quanti più nemici possibili smantellando le difese rivali. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la capacità di far scomparire carte riposizionandole in fondo al deck, grazie ad elementi tipo Borsalino a costo 7, gli Hound e le 3000 che annulleranno, grazie anche al potere del leader, le minacce avversarie più pesanti. Per abbassare il costo dei personaggi nemici avrete a vostra disposizione le Greater Option che vi faranno pescare anche una carta, i Kuzan, anche qui ci sarà un effetto simile a quello dell'event appena menzionato, le Hina fondamentali per l'intero arco del match, le Tassigi con le Zuru, anche se consiglio di utilizzarle per il loro valore di counter, ma non si sa mai, assieme alle Ice Age. Braniu vi permetterà inoltre di velocizzare la ricerca di elementi fondamentali da impiegare nell'immediato e grazie alla stessa Mancherie e Rebecca scartare le due carte che non verranno selezionate risulterà essere meno impattante. La scelta da fare infatti sarà quella di optare per Borsa a costo 7 dato che sarà l'unico, eventi esclusi, a non poter essere bersagliato dagli effetti di Sherry e Becca, recuperando il resto in un secondo momento, in modo tale da massimizzare ogni singola giocata. Per quanto riguarderà invece le difese avrete i Borsa a costo 4 ed i Sabo che salvaguarderanno temporaneamente i singoli elementi presenti sul campo, garantendovi una durabilità maggiore atta a contrastare dei ribaltamenti di fronte ai rivali, permettendovi inoltre di pescare due e scartare altrettante carte dalla mano, potenziando ancora di più le dinamiche strategiche dell'intero mazzo. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Ricorrete al primo potere del leader quando potrete, dato che le carte scartate in ogni occasione non saranno mai morte. Recuperate quindi gli elementi eliminati quando sarà necessario per controllare la board avversaria, impedendo a chi vi giocherà contro di accumulare presenza in board. Ho svolto e assistito in prima persona l'eliminazione di una big mamma a costo 10 ed un sagazuki a costo 8, così, senza troppi problemi. C'è da dire comunque che le carte che avevo in mano mi hanno permesso di svolgere quella manovra, ma non sarà assolutamente raro togliere di mezzo pezzi grandi che avranno a tiro le vostre vite. Ragionate e fate bene i calcoli prima di agire e vi ritroverete agevolati nel compito di pulizia. Per la fase offensiva questo deck avrà le Hina, i Kuzan, i Luci e i bors a costo 7 pronti per fare incetta di vite rivali, ma anche i Branio, i Kobili, i Tassigi, i bors a costo 4 con i Sabo potranno assolvere al compito se vi sentirete sicuri di poter chiudere un match. Per quella difensiva ci saranno proprio sia i bors a costo 4 che i Sabo assieme a Bartolomeo, che vi schermeranno dalle offensive rivali, anche se l'ultimo dei tre di solito l'ho utilizzato maggiormente o come counter o come pezza d'appoggio quando c'era da scartare una carta. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un Branio, una Rebecca o Mon Cherie, Luci, Ina ed uno dei qualsiasi event a disposizione presenti nel mazzo. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, Sagazuki è a tutti gli effetti un tier 0 e come tale si troverà al di sopra di moltissimi leader presenti in meta. Preoccupatevi quindi per i Luffy Viola e gli Enel, che in questo quinto atto rappresenteranno una spina nel fianco non da sottovalutare. Per tutto il resto procedete sempre con cautela, non sottovalutando mai l'avversario. Per la win condition quella che ho riscontrato il maggior numero di volte è stato controllo board spietato e attacchi continui che hanno lentamente esaurito le risorse rivali. In più, il meccanismo di riciclo del deck vi verrà in soccorso, fornendovi quando sarà possibile quella risorsa che potrà cavarvi fuori dai guai nei momenti più opportuni. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno i Branio, le Cherie, le Rebecca, i Kuzan, entrambi i Borsalino, i Luci, le Ice Age, le Greater Option, gli Hound e le Thousand. Per il resto, visto liste giocare Kaido a costo 10 blue, Soge King, addirittura le ulti, quindi starà a voi testare la lista e adattarla a seconda del vostro stile di gioco. Infine, per la fase counter avrete a disposizione 9 più 2000 e 16 più 1000 che potrete utilizzare all'occorrenza non preoccupandovi troppo della carta scartata. Ricordate sempre che un elemento nella pila degli scarti potrà tornare sempre in vostro possesso quando ce ne sarà la possibilità. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Sakazuki parte per secondo, o almeno così è come lo giocatoio per testarlo, e mi ci sono ritrovato piuttosto bene, soprattutto per la curva che vede la sinergia tra Ice Age o Air Option con Borsa a costo 7 e i vari pezzi pari che popoleranno il mazzo. Questo deck, lo ripeto ancora una volta, basa le sue dinamiche sulla matematica, quindi fate per bene le sottrazioni e giocate in base alle esigenze che potrete soddisfare in quello specifico momento durante un match. Concludendo, Sakazuki è un leader, a mio parere, fortissimo, che non toglie nulla a chi lo gioca, anzi ne agevola il compito, e sono certo che in questo nuovo meta farà tornare grande la marina, dando del filo da torcere a tutti quei pirati che, in questa nuova era, saranno braccati dal cane rosso. E voi avete già avuto modo di provare il grande ammiraglio? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.